Allora faremo un viaggio alla scoperta di alcuni grandi compositori. I compositori sono degli artisti che scrivono la musica, gli scrittori poeti scrivono poesie, i compositori scrivono la musica. Nella storia ci sono stati tanti compositori molto famosi le cui musiche anche oggi noi suoniamo e gustiamo perché sono dei capolavori che allora sono belli in tutti i tempi. Poi anche al giorno d'oggi ci sono dei famosi compositori, dei compositori divertenti, dei compositori seri, dei compositori di musica moderna, dei compositori di musica moderna. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento dei concerti animati. Allora avete un po' viaggiato? Siete stati da qualche parte su queste onde? Chi ha viaggiato con la mente? Che cosa avete immaginato? Tu state a rincio! Maestri, possiamo anche andare a casa? Il concerto è finito! Qualcun altro ha viaggiato? Questo brano, maestri, si chiama proprio, caro pubblico, il viaggio e ci consentirà di fare un viaggio nella musica attraverso l'opera di alcuni compositori ma anche attraverso il lavoro dei nostri maestri che adesso io vi presento. Al violino, Silvia Badaloni All'ufficio armonica, Clara Lombardi E la lama rimba e il cajon Il maestro Marco Alvarez-Tessi E fa la clac stasera, clac del maestro, fatevi sentire! E sono la governante di casa Ander Oh, George George è un ragazzo bellissimo Con gli occhi azzurri, capelli biondi Ah, un ragazzone Ah, lo scorso 23 febbraio è stato il suo compleanno Che la festa abbiamo fatto Io gli ho cucinato i suoi piatti preferiti Gli sconchi E poi, al momento della torta, abbiamo cantato tutti insieme E poi, al momento della torta, abbiamo cantato tutti insieme E poi, al momento della torta, abbiamo cantato tutti insieme Grazie.